Dall'ascolto attivo dei cittadini che non sono più passivi ma sanno esattamente quello che volere dalla sanità, noi possiamo mettere in piedi le azioni di miglioramento della nostra sanità. Ad Arezzo arrivano gli stati generali della sanità, si tratta di uno spazio aperto alla cittadinanza di confronto su criticità e punti di forza che si terrà il prossimo 13 marzo al Teatro Petrarca. Diciamo che sono invitati tutti coloro che in merito ai temi sanitari possono dire qualcosa, possono chiedere qualcosa, quindi io mi aspetto e anzi invito i cittadini a essere presenti perché sono loro i principali beneficiari del servizio che la ASD ci fornisce circa la sanità. È evidente che il sindaco non è il recettore principale per cui le difficoltà, le criticità, i malcontenti che i cittadini mi scrivono per me, i quali tento di dare risposte molto spesso qualche volta improvvisate, avranno invece una risposta compiuta e corretta in un consesso in cui siamo tutti presenti. Questa è un'ottima opportunità di confronto non solamente con i rappresentanti politici locali che sono responsabili quanto noi del buon andamento della sanità ma anche e soprattutto di ascolto verso i cittadini e le associazioni che le rappresentano. Noi sappiamo che non siamo un'azienda perfetta, abbiamo molti problemi, abbiamo tante critiche che ci vengono esplicitate anche direttamente, ad alcune cerchiamo di dare delle risposte e vediamo in quel momento se oltre alle risposte e quindi anche a quelle che possono essere le nostre strategie di controllo riusciamo anche a intavolare un tavolo che abbia una continuità nel tempo e che ci permetta di monitorare anche i nostri interventi. In vista degli stati generali sulla sanità l'amministrazione comunale di Arezzo ha infine attivato anche un'email con lo scopo di tenere aperto un canale di comunicazione tra comune e cittadini sul tema della sanità. Stanno arrivando con costanza e più o meno i punti sono sempre i soliti, le liste d'attesa, il pronto soccorso, una difficoltà di rapporto tra ospedale e territorio, il futuro del San Donato e il personale medico a disposizione della città e soprattutto del presidio ospedaliero, quindi questi sono i punti caldi sui quali ci confronteremo.